amici di motorsport.com ciao a tutti si sono concluse le prove libere del gran premio di monaco la formula 1 arriva nel principato e c'era la curiosità di scoprire se le ferrari sarebbero state in grado di sfidare la red bull questa mattina abbiamo visto una ferrari davanti con carlos sainz e un max verstappen un po in difficoltà nelle scelte di assetto probabilmente a milton kings hanno sbagliato qualcosa nel deliberare la macchina pomeriggio si sono messi a posto e l'olandese si è messo davanti alle due rosse per parlare di questo e di quelle che sono le novità tecniche che si sono viste nel principato ne parliamo con il nostro esperto giorgio piola ciao giorgio ciao franco ciao a tutti quello che hai detto un po quello è la chiave sempre dire tour un po nel confronto ferrari e tour la ferrari spesso riesce a essere subito a un buon livello mentre la red bull a volte fa fatica e lo si vede spesso in fp1 e soprattutto quando poi ci sono le gare sprint come era successo per esempio clamorosamente l'anno scorso in brasilia e la red bull ogni tanto toppa all'inizio e fa fatica fa l'altro devo dire avevo visto una cosa abbastanza strana ieri sappiamo che a monte carlo vengono irrobustiti e gli angoli gli elementi della sospensione sia un maggiore angolo di sterzata quindi quasi tutte le squadre introducono dei dei triangoli di sospensione diverse invece la red bull avevano anche addirittura smontato proprio tutto i porta mozzi tutto la valdren era completamente smontato e da un indiscrezione ha capito che avevano sbagliato qualche cosa e hanno dovuto quindi fare un extra lavoro quindi può darsi che siano arrivati stamattina con ancora tutto non perfettamente sotto controllo questo da un punto di vista fa quasi un po sorridere piacere perché si pensa sempre che noia la red bull così infallibile che vince tutto che fa tutto eppure ogni tanto anche loro fanno degli errori e evidente questo l'hanno un po pagato nelle prove libere di quale stamattina allora red bull che praticamente ha portato di fatto una piccola modifica al corner posteriore ma quello che è più visibile è l'adeguamento dell'ala da alto carico e questa volta bisogna proprio definirla un ala da alto carico perché abbiamo visto un flap mobile grande come non credo si sia mai visto negli ultimi due anni è quello che si dice in gergo un bel padellone proprio e fra l'altro hanno cambiato anche il drs su cui hanno lavorato tanto anche lì di nuovo giovedì siamo anche riusciti a fotografarlo credo smontato nella parte in cui genere non lo vediamo mai smontato quindi mettendo poi assieme due o tre campi per due o tre foto potremmo farlo di sezionato tutto quanto comunque ecco hanno ritoccato fatto soltanto l'adattamento in pratica per il circuito in casa red bull ecco il però lo specialista dei cittadini come ormai considerato sergio perez il re dei dei cittadini non è che abbia fatto una grande figura si è beccato mezzo secondo dal suo compagno di squadra e non è andato oltre il settimo posto è pensabile che nella logica delle difficoltà che hanno incontrato abbiano magari lavorato su due setup diversi per poi convergere domani mattina alla soluzione migliore sai non lo so perché anche purtroppo qui a monte carlo è successo una novità diciamo organizzativa piuttosto spiacevole non si sa per quale motivo i fotografi pur avendo la tabacola selezionata che devi pregare devi scrivere mettere il tuo nome vieni selezionato ogni volta non avevamo accesso proprio vicino alle macchine ma doveva mostrare oltre il muretto per cui da un lato mi sono goduto un po di più l'aspetto canalità delle prove tra l'altro visto anche quando science ha sbattuto perché era proprio praticamente sotto di me e dall'altro lato però purtroppo perso un po quello che è seguire il lavoro dei box perché vedendolo da lontano per esempio oggi a un certo punto mi sono accorto soltanto alla fine delle prove fp1 che la mclaren aveva fatto delle prove di vitz fluid su tutta la fiancata ma era la fiancata di sinistra mentre stando dal dal garrail opposto della corsia dei box si vede soltanto la fiancata di destra quindi oggi purtroppo il mio lavoro è stato fortemente penalizzato da questo hai avuto la sensazione giorgio che questo provvedimento scattato a monte carlo sia frutto di quello che si è visto a fine gran premio a baku quando con è arrivato ed erano in corso i preparativi del podio sì perché in formula 1 ogni tanto succede una cosa invece che prevenire i problemi perché tu sai benissimo che campagna io ho fatto contro la sprint race proprio a baku io non sono contrario ripeto al sprint race baku mi sembrava proprio la gara più difficile poi sull'organizzazione di certe gare i commissari che non sono all'altezza oggi abbiamo visto la macchina di science sono stati bravissimi quelli di monte carlo l'hanno arrivata in pochissimo tempo no mentre su altre piste non sono così all'altezza evidentemente a baku anche lì i commissari non sono stati bravissimi e poi c'è la tendenza in formula 1 che non si proviene ma quando succede qualcosa si fa la punizione si parte con ovviamente chi ne fa sempre le spese sono purtroppo chi invece fa un lavoro serio come i fotografi come i giornalisti e come quelli delle televisioni però delle televisioni dato che ovviamente pagano avevano il diritto di stare in corsia dei box a monte carlo mentre i fotografi dovevano stare al di là del muetto la mi ha paura che queste tendenze quando si inizia io dico sempre quando si inizia una volta poi e continua e poi magari succede più spesso come per esempio anche l'altro esempio di imola la sala stampa che era sopra i box è stata spostata poi purtroppo per le note vicende tristissime non si è svolto il gran premio però noi avremmo dovuto lavorare una situazione veramente molto poco comoda e molto poco utile per il nostro lavoro al di là del tunnel che lo sappiamo è strettissimo qualcuno addirittura ha detto che anche in austria c'è un tunnel ma il tunnel in austria possono passare mille persone sedersi fare panchetti mangiare e follie ci sono addirittura dei bagni che non si vedono nemmeno in alberghi a 4 o 5 stelle il tunnel di imola e me purtroppo è proprio un cunicolo dove non si riesce a passare nemmeno in due assieme quindi ho paura che questa tendenza di privilegiare sempre di più il paddock club e meno gli addetti ai lavori possa dilagare il futuro dalla punta polemica giorgio torniamo agli aspetti puramente tecnici e quindi abbiamo fatto un'indigestione proprio io dovrei dovrei stare almeno una settimana chiusa in casa a disegnare e non riuscirei a farle tutto perché ogni squadra ci ha dato un foglio di modifiche pazzesco proprio tutti quanti e meno male che era a monte carlo dove non bisognava portare le famose modifiche che non è la pista significativa allora aspetta facciamo prima l'analisi della ferrari è attaccata a 65 millesimi di secondo da max verstappen è una ferrari che c'è è una ferrari che all'inizio del turno ha montato le gomme hard e girava con tempi molto interessanti diciamo che le hard in questa situazione sono le c3 quelle che a volte diventano le rosse in altri circuiti per cui la ferrari si è ben adeguata a quelli che sono gli pneumatici che pirelli ha messo a disposizione però è un segnale positivo perché in prospettiva in vista della gara è da pensare che possa non avere problemi nell'usura e nel degrado delle gomme sainz è stato regolarmente davanti al suo compagno di squadra fino al colpo di reni di charles e poi ha rovinato la giornata toccando all'ingresso della seconda delle piscine ha rotto il braccetto dello sterzo e poi senza controllo la rossa è andata a sbattere in uscita si a prima vista non mi sembra che per fortuna abbia sbattuto in maniera pesante quindi non dovrebbero esserci problemi come purtroppo era successo per le clerk in precedenza quindi sembra che abbia urtato solo l'anteriore destra e non il posteriore quindi non è coinvolto il cambio il tutto retrotreno non è coinvolto nemmeno il telaio perché ti dico anche l'ala anteriore si è rotta ma non in maniera pazzesca quindi il cerchione anche quello non si è rotto da base quindi credo che la macchina sia facilmente riparabile e non ci sia nessun problema in questa pista credo che di tutte quelle che abbiamo visto sinora e che credo che ci saranno anche in futuro nel primo prossimo futuro sia quella più favorevole alla ferrari per avere un buon risultato ecco l'aston martin però attenzione con fernando alonso non è lontana è un decimino che balla e abbiamo visto un fernando particolarmente in forma eh che si è lamentato spesso del traffico eh dei piloti che nel giro di lancio rimangono spesso in traiettoria come giudichi questa cosa perché ci vorrebbe più rispetto in situazioni molto critiche come può essere un circuito corto di tre chilometri e tre come quello di montecarlo domani in qualifica quando ci sarà la q1 con venti macchine impegnate eh ci sarà da sta ci sarà da stare molto attento sì devo dire ecco questo oggi mi sono divertito ma anche un po' terrorizzato perché ogni tanto mi mettiamo quasi in situazione sicuramente io non sono un pilota quindi le mie sensazioni sono molto diverse vedere quando per esempio prima del tornante l'ultimo tornante la rascasse una macchina lenta va tutta a sinistra l'altra tutta destra vedere spreciare in mezzo uno che sta facendo invece il suo giro la sicuro che veramente fa venire veramente i primiti ancora di più di quando in gara in definitiva li vedi tutti su per giù alla stessa velocità che si lottano eh con distanze minime quasi eh nulle tra una macchina e l'altra però diciamo tutti assieme noi coordinati bene e queste situazioni sono molto pericolose e devo dire che in fp2 mi è sembrato che i piloti fossero molto attenti cioè eh nonostante io facesse ogni tanto un sussulto per vedere il coraggio di questi piloti che passavano velocissime mezza due macchine devo dire non ho visto molto probabilmente la scuriate di Fernando nel fp1 devono aver fatto anche il risultato e qui bisogna dire i commissari ho visto sventolare proprio c'era quello che sventolava la bandiera blu e non stava un attimo quasi un attimo fermo attentissimo prontissimi sono veramente fantastici i commissari di Monte Carlo. Ecco allora eh Giorgio una Aston Martin a me è incuriosito molto eh nel vedere che ci sono dei eh generatori di vortice dei deviatori di flusso all'interno dei cestelli eh fra un cestello e quell'altro segno che la micro aerodinamica sta arrivando a esasperazione hai voglia da dire che bisogna stare su soluzioni che devono essere semplici e invece devo dire che eh il gruppo di lavoro di di Aston Martin sta facendo eh soluzioni sicuramente molto interessanti ma c'era anche dell'altro di nuovo. Sì c'era l'ala posteriore soprattutto da alto carico mentre avevano due ali anteriori che però erano già state utilizzate eh c'è stato appunto detto che non c'era bisogno di un'ala anteriore ancora maggiormente carica perché quella già che avevano che poi si vede l'ultimo flap che si con una corda molto maggiorata nella zona periferica era più che sufficiente per bilanciare l'ala posteriore da maggior carica e che poi bisogna adottare far precisare una cosa a Aston Martin il suo punto è stato debole finora era stata la velocità di punta su questo circuito è un fattore non importantissimo quindi ecco che la Aston Martin anche lei potrebbe essere una vettura proprio per puntare anche alla vittoria su questa gara. Allora nella sequenza dei tempi dietro Aston Martin di Fernando eh appare un po' a sorpresa devo dire Lando Norris con una bellissima McLaren riverniciata per la tripla Corona eh un Norris che è riuscito a mettere di pochissimo pochi millesimi eh la sua McL60 davanti alla tesissima Mercedes di Lewis Hamilton. Un Lewis Hamilton che sembra più soddisfatto per la guidabilità della macchina ma ancora non contento per quello che le prestazioni che riesce a offrire. Mezzo secondo a Montecarlo pista molto corta è certamente un divario importante. È un divario importante però scusa penso che bisogna appena dare pensare che hanno appena messo hanno costruito la macchina proprio finita eh questa mattina praticamente è una macchina completamente nuova quindi senza nessun riferimento ovvia ovviamente con un comportamento molto diverso perché non solo l'aerodinamica è cambiata ma abbiamo visto anche la sospensione anteriore eh molto modificata eh modificata non soltanto per avere più anti dive ma soprattutto per migliorare tutto il flusso d'aria con vogliare proprio la posizione dei braccietti io ho fatto una foto da cui farò poi un disegno la posizione proprio del triangolo del braccio anteriore del triangolo rialzato del puntone e del braccio posteriore i veti proprio in cascata che proprio segnano proprio un flusso che porta giù quindi per un downwash molto utile per creare effetto suolo dai puntoni che sono stati anche questi rivisti anche anche le famose paratie verticali all'inizio delle fiancate anche queste sono state modificate poi ovviamente è una macchina che l'abbiamo definita né carne né pesce perché ovviamente le strutture deformabili devono stare in quel punto e abbiamo visto che quella posteriore superiore che prima era staccata e faceva da eh profilo con cogliatore quindi aveva una sua funzione aria dinamica adesso praticamente forma tutta la parte superiore del della bocca di ingresso delle fiancate ecco l'aspetto interessante forse da mettere in evidenza giorgio è come eh in mercedes si siano inventati una sospensione nuova mantenendo lo stesso telaio e bisogna dire che il gruppo del lavoro di james allison trovato la possiamo dire una sorta di genialata trovando la possibilità di attaccare nella parte superiore del telaio eh questo braccio che andava perfettamente in linea per come lo hanno disegnato con le cover a dare quel vantaggio aerodinamico di cui tu stavi parlando sì è una soluzione un po' simile a quello anche fatta dalla ovviamente era la loro unica possibilità per creare questa cascata di differenza di punti di attacco perché invece il braccio posteriore del triangolo superiore era abbastanza fisso il suo punto d'attacco proprio fisso dalla dalla forma del telaio che purtroppo è stato il grosso vincolo di questa macchina che appunto mi ha fatto dire né carne né pesce perché purtroppo eh si avrebbero potuto non è che non volevano pensano che siano sbagliate avrebbero potuto fare delle soluzioni più in linea con quello che è la tendenza attuale ma ci sono dei vincoli regolamentari anche proprio nel telaio che devono essere rispettati e non potevano assolutamente rifare il telaio in questa fase. Ecco Giorgio eh ci sono diverse macchine lo hai citato che hanno portato curiosità ce n'è una in particolare che ci ha riportato un po' indietro nel tempo sto parlando dell'Alpi che comunque è con due macchine nella top ten vedo che sorridi e lascio a te la parola. Sorrido perché ho scoperto questo mini monkey seat proprio una cosa un flappettino tipo monkey seat vecchi subito dietro al filone e sopra lo scarico che segue un po' la forma dello scarico e lo avevamo visto tantissime volte soprattutto a modegarlo apparivano sempre con doppio profili con corda abbastanza monkey seat voluminosi qui ho un monkey seat quasi per un'ape al massimo non per una scimmia non ci sta proprio nessuna scimmia non sai perché ridevo perché l'ho fatto vedere perché quando vedo queste soluzioni curiose poi c'è un due o tre tecnici con cui ho ancora molto feeling diciamo un po' anche della generazione non dico dai miei tempi perché ovviamente non possono avere la mia età ma comunque generazione con cui ho sempre un ottimo rapporto gliel'ho fatto vedere e si sono messi a ride come per dire oh quello fa guadagnare tre secondi come per dire però è divertente io l'ho fatto e l'ho segnalato e mi piace segnalarlo adesso mentre ci sono state delle novità molto più importanti perché è una cosa nuova che non si era più vista capito a me interessa ogni tanto scoprire quando qualcuno tira qualcosa di nuovo come per esempio è molto interessante la paratia il taglio della paratia su in alto dal flap della paratia posteriore sempre dell'alpina è completamente nuova anche questa e quindi quando c'è una soluzione che nessuno ha fatto come l'anno scorso mi era io interessato incuriosito a quegli orribili salsicciotti dell'aston martin che poi sono stati proibiti perché comunque era una furbata di agilare regolamento la federazione ha fatto benissimo a proibirli perché era proprio una furbata di lettura del testo ma contrario veramente allo spirito vogliamo fare la battuta possiamo dire era una furbata un'ultima considerazione rimaniamo nel mondo dell'aston martin l'aston martin ha annunciato in settimana e dal 26 diventa quadro ufficiale abbinata alla onda questo è un segno molto positivo per la formula 1 perché rimane e si recupera un marchio che sembrava in uscita però viene fuori che l'aston martin che finora si sta facendo un retrotreno che è fotocopia della mercedes dovrà farsi un cambio bene mike crack il team principal se ne è venuto fuori proponendo alle altre squadre di formula 1 che siccome pare un cambio che oggi non dà prestazione non incide nelle prestazioni tutti vanno più o meno uguale beh allora non ha senso spendere 8 9 milioni di ricerca si potrebbe arrivare addirittura a fare un cambio uguale per tutti dio alla fare la formula 1 se andiamo a ragionare in quel modo sì su questi su particolari così importanti come può essere il cambio mi trovo completamente d'accordo con te che dovrebbe rimanere libero e che le squadre dovrebbero fare le loro soluzioni più o meno estreme più o meno diverse fra di loro e appunto per esempio uno dei grandi vantaggi della red bull è proprio la scatola del cambio che è disegnata in maniera proprio particolare poi molto della scatola esterna molto stretta e quindi con uno studio non solo meccanico ma anche in funzione aerodinamica quindi infatti l'anomalia del racconto è che uno bravo come mike crack il team principal va dicendo a livello prestazionale il cambio non conta niente è vero nelle cambiate col seamless sono ormai tutti uguali ma quanto conta la scatola del cambio come parte fondamentale del retrotreno è cavolo se conta si bisogna vedere se magari in questa sua frase forse intendeva diciamo la parte meccanica da farla no la sensazione è che quanto più si va a farla uguale con gli altri loro che non ne hanno la cultura nel farlo si semplificavano il compito però non può essere sempre quella del del vantaggio di cassetto in quella che è un'analisi a prospettiva più lunga ma sai quando succedono per esempio ormai in formula 1 mentre prima i regolamenti tanti anni fa venivano fatti dalla federazione e i costruttori si ritrovavano il regolamento e non ne sapevano niente da quando c'è stato l'andazzo del regolamenti studiati insieme ai costruttori è ovvio quando si andava nei meeting proprio per decidere cose ogni singolo il costruttore ogni singolo rappresentante ingegnere portava sempre una soluzione che loro o avevano già studiato o gli veniva bene a loro mi ricordo per esempio quando è sorto a un certo punto anche le strutture deformabili che la Ferrari le aveva messe staccate credo che Rory Burn ci avesse già pensato prima e quando si è parlato di come posizionare le strutture di come mettere i limiti delle barco di tutto quanto ovviamente è stato fatto una proposta che poi ha in avvantaggio ecco l'unica volta che racconto qui scusate adesso scambio completamente andiamo indietro quasi di secoli l'unica volta che ci fu una scena bellissima quando c'erano ancora le riunioni a Maranello che ovviamente con il grande comandatore e il grande capo Bernie Eccleston e Jean-Marie Balestra all'epoca andavano a discutere i regolamenti tutte le varie cose a Modena a casa della Ferrari e quella volta il buon Frank Williams tornò a casa alla Williams e disse tutto bello soddisfatto a farlo in cadde lo sai che oggi è stata una riunione stupenda molto costruttiva abbiamo fatto tante cose e abbiamo proibito le quattro ruote ma a quel punto c'è stata un'esplosione e con Patty che dice scusa quelle quattro ruote che è nel mio progetto segretissimo che stiamo studiando da due anni nella macchina che stiamo facendo cosa pensavi che fosse il Frank ma è segretissimo non me l'hai mai detto ecco quello fu una sola cosa e venne proibito una soluzione che tra l'altro sembrava adesso un vantaggio incredibile perché permetteva di fare un diffusore lunghissimo quindi un vantaggio molto superiore a quello delle quattro ruote davanti e poi aveva le quattro ruote piccole posteriori quindi anche nella resistenza aerodinamica chi ha un po' i capelli bianchi ricorderà che le Formula 1 di quell'epoca avevano delle ruote posteriori enormi erano quasi spropositate rispetto a quelle anteriori quindi un progetto che poteva veramente avrebbe catapultato la Williams a un dominio pazzesco ecco che succedeva ma sempre per questo perché ovviamente i costruttori cercano sempre di tirar l'acqua in quel caso lì è stato l'unico caso in cui un costruttore si è dato una bella diga sul fiume ha bloccato tutto quanto una zappa sui piedi e Patrick per poco lo fa fuori va bene con questo episodio curioso degli anni ANTA ti ringrazio Giorgio ti do appuntamento a lunedì quando analizzeremo il Gran Premio amici di motosport.com cliccate la campanella qui in alto a destra iscrivetevi al canale così avrete le informazioni dei prossimi video commentate qui sotto fateci sapere cosa ne pensate tra l'altro questi episodi servono anche a tenere vivo un racconto di una Formula 1 che tende ad andare sempre di più a cercare solo e soltanto lo show e noi rimaniamo i vecchietti che spingono al fatto che la tecnica la tecnologia non venga messa in secondo piano grazie a tutti grazie Giorgio ciao a tutti ciao, buona sera ciao ciao